Sono partite le operazioni di recupero del relitto di epoca greca, databile al V secolo a.C., rinvenuti nei fondali di Contrada Bulala. Il progetto di scavo, il recupero del relitto Gela II, realizzato e diretto dalla soprintendenza del mare della regione siciliana, sarà effettuato dal raggruppamento di imprese Atlantis di Monreale e Cosian di Gela, che si sono aggiudicati i lavori per un importo di circa 500.000 euro, a valere sul patto per il Sud 2014-2020. Le attività del progetto sono anche un po' di più, ma comprendono anche il restauro. Quindi non solo lo scavo, il recupero e poi il restauro dei materiali che verranno recuperati. Quanti addetti ai lavori serviranno? Al momento la squadra base per quanto riguarda lo scavo e quindi lo studio di quello che stiamo scavando siamo circa otto persone, tra tecnici subacquei e archeologi. Il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori è di 270 giorni. Dovrebbe essere una nave simile a quella che è stata già recuperata, la Gela I. Anche se per adesso siamo nella fase iniziale di studio dello stato di fatto, per cui la Gela I era circa 21 metri per 6 metri. Ad oggi non abbiamo ancora la possibilità di dire che si tratta di una nave di uguali dimensioni. Il cantiere è stato avviato solo qualche giorno fa. Al momento le attività di accantinamento, a parte la questione logistica legata alla preparazione delle imbarcazioni e alla preparazione anche a bosco dittorio dell'aria in cui poi verranno portati tutti i reperti recuperati, è stato effettuato un rilievo batimetrico, batimorfologico con tecnologia multibeam e i primi risultati ci fanno pensare che a vista abbiamo solamente un cumulo di pietre multiformi che presumibilmente rappresentano la zavorra che la nave andava sostituendo con il carico durante i vari scali nei vari porti dove consegnavano la merce, per cui lasciavano la merce e al posto della merce che avevano scaricato caricavano la zavorra. Grazie a una fruttuosa collaborazione tra la soprintendenza del mare, la soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta e il parco archeologico di Gela, sarà possibile realizzare le attività di primo trattamento conservativo, consolidamento e restauro definitivo nei locali appositamente allestiti nel museo che ha ospitato lo scorso anno la mostra sul relitto Gela 1 all'interno del Bosco Littorio che ha registrato oltre 50.000 visitatori provenienti da ogni angolo del mondo. Non ci manca né il materiale archeologico né lo spettacolo delle aree dove poter esporle. Il recupero di questo secondo relitto costituisce l'ulteriore occasione per il territorio gelese per continuare quel processo di sviluppo culturale e turistico che questa parte della Sicilia merita. Le due navi greche e i numerosi reperti recuperati in questi anni potranno costituire il polo di attrazione culturale legato all'archeologia subacquea che Gela attende da troppi anni e che consentirà di coniugare le esigenze di tipo scientifico con quelle di tipo culturale. La riapertura del museo regionale era prevista per l'inizio della stagione estiva ma così non è stato e ancora tutto tace mentre per il museo del mare in cui sarà esposta la prima nave greca dopo il primo sopralluogo avvenuto a febbraio 2024 non si ha ancora una data di apertura.